Quarto ed ultimo fine settimana da Bollino Rosso per il rientro degli ultimi vacanzieri. Si prevede traffico intenso verso le regioni del centro nord, in particolare Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Osservate speciali in vista del grande rientro le arterie autostradali per il territorio aretino, l'autostrada del sole. Nel terzo fine settimana di agosto, quello di sabato 19 e domenica 20, il personale Anas è dovuto intervenire nella viabilità di sua competenza per 564 soccorsi e 113 incidenti. Tra le strade con maggior flusso, la A12, l'autostrada del Mediterraneo. L'andamento medio del traffico nel mese di agosto a confronto con il 2022 ha evidenziato un aumento del 2%.